La Slovacchia è una squadra abbastanza buona di livello, quindi sì siamo contenti, abbiamo vinto anche con capabilità, con grinta, con voglia di vincere che è la cosa più importante soprattutto nell'overtime alla fine e quindi sicuramente ci siamo, oltretutto diciamo che adesso arriveranno qualche giocatore in più che avevamo lasciato fuori per dare più spazio ai ragazzi giovani e sicuramente venerdì ci giocheremo le nostre carte per poter andare in finale. Una cosa che per me è molto importante perché è un torneo alla memoria di Andrea Chiarotti che oltre che essere stato qui con noi e il fautore del movimento parolimpico è stato anche un mio grande amico che conoscevo da quando aveva 13 anni, quindi per me sarebbe una grande soddisfazione poter giocarmi a un torneo intitolato a lui. Quali sono invece stati i miglioramenti che lei ha potuto notare dall'inizio del torneo fino ad oggi della sua squadra? I miglioramenti sono soprattutto sul tipo di gioco che alcuni dei nostri giocatori, soprattutto i giovani, non sono abituati nel senso che nel campionato italiano non c'è questo livello, quindi l'intensità, la capacità di scelta più rapida rispetto al campionato italiano per cui si devono abituare a un altro ritmo di gioco, un'altra intensità. Il fatto anche di giocare a tre linee, che è un'abitudine che non hanno, li aiuta qui a sviluppare un tipo di gioco che logicamente per dove andiamo noi, i campionati del mondo, diventa fondamentale. Devo dire che sono molto soddisfatto dei ragazzi che sono presenti qui, di questi nuovi ragazzi per la squadra perché vedo un grande impegno, grande anche umiltà nell'imparare e quindi è un aspetto positivo per la loro crescita e vedo che proprio anche durante il torneo, oggi era la terza partita, hanno già messo in pratica i consigli che gli sono stati dati. Ringraziamo Massimo Darin per la sua disponibilità e da Volonbrite per ora è tutto.